metti lo straniero per spammare il bombardamento ok quindi partiamo bene con chic bazzotto copertura facciamo un po di pulizia così giusto così ora io ora mi metto ogni lato e faccio il bombardo giusto ci amavo questa è la struttura cioè cosa vuol dire così ora me lo sto qua metto un sacco di entiere come ha detto a mopus che raga cerco di spostarmi in modo che vediate tutto vorrei prendere un cerchino per farvi capire meglio la situazione questo assolutamente sarà il video di domani guardate questo è quanto questa missione è stata fatta praticamente senza base senza niente io sono con uno straniero con cui ho solo pagato una costruzione e questo è un quadrato di porte un quadrato di porte assurdo guardate non picchiano neanche neanche una volta vedete fanno un giro tutti davanti dove c'è la porta pagata c'è solo un muro bancato e basta in tutta questa costruzione il resto sono tutti i muri normali ti dico io ho provato a metterlo bene 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 sono contento non ho appena scelto guardate guardate lo smash la schermese da quello che mi è stato detto c'è in barra 7 di altezza in base a cui vedete i mostri se spaccano allora dovete salire ancora entrate tutti nel telegram e mandate in chat qua la missione praticamente è finita in questa maniera molto bene sono molto soddisfatto domani per lui del video prenderò dalla live perché ormai penso della spiegata benissimo quindi questo è qua qua ci sarà una porta al contrario e basta e poi dovete mettere i muretti per sicurezza come ha detto prima Marina sarebbe da provare una roba simile anche in enturas i giri raga sono molto contento testo superato